Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Per anni ha presidiato le scuole ed era molto conosciuto e benvoluto da centinaia di famiglie savonesi anche perché, nel periodo natalizio, era solito travestirsi da babbo natale per portare sorrisi ai bambini. Inoltre, era vicepresidente della Società di Mutuo Soccorso 24 Aprile, che collabora con il reparto di pediatria dell'ospedale San Paolo di Savona. Savona. Lutto a Savona per la scomparsa di Antonio Tommy De Luca, 73 anni, ex vigile arbitro di pallavolo, residente nel quartiere di Villa Piana. Tantissimi i messaggi di cordoglio in memoria di un uomo buono e gentile. Con cui i tuoi baffoni, a Natale era il tuo ruolo irrinunciabile. Così come non potevi mancare all'appuntamento con i tuoi bimbi ricoverati in pediatria, ai quali al mattino portavi la focaccia appena sfornata. Sei sempre stato una persona buona e ci mancherai.